Il nostro Mussolini, il Mussolini che torna fa paura, fa paura perché torna non perché possa riportare il fascismo in Italia, abbiamo molte manifestazioni parafasciste in Italia ma perché torna in un paese che è già populista, è probabilmente uno dei poteri che rende in questo paese populista, almeno nel film, è il sistema dei migliori. Il film all'inizio ti dira dentro, ma non per questo è l'acologia del fascismo, ti dira dentro come un personaggio umano e praticamente il film l'ultimo atto di Lizzami forse è una delle fonti ispirazioni, almeno per quanto riguarda Mussolini. Dopo Mussolini rivela in qualche modo il nostro film, la nostra maschera, ma noi sappiamo benissimo che ha fatto di peggio di quello che si vede in un film, però sicuramente mi sottrago l'accusa e può esserci di un atteggiamento tenero nei confronti del dittatore perché lo scandalo è proprio lì, fa parte del nostro paesaggio morale, proprio per questo che in effetti Mussolini passa tra di noi ed è uno di noi, questo è difficile da sopportare.